Grazie a tutti Grazie 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 a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 aiuta! Gabriele! vai Ale! vai Ale! vai Ale! vai Ale! che data! dai! 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 Grazie. 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 Muoviti mano. Che blocchi. Ah. È uno dei meno scatti. Bella palletta. Grazie. 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 Ok. Grazie. No. No. No, v submissions. Grazie. Cbiau. No. 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 Sì, c'è un po' più grande. 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 C'è un po' più grande. Sì, c'è un po' più grande. 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 Grazie. 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 O sea, era uno. No lo capito. Alla prossima 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 Alla prossima